Numero 6 DJ Sub Rock DJ e rapper di New York leggenda che aveva il gruppo KMD con gente come MF Doom che al tempo aveva un altro nome Zav Love X Rest Up anche lui è morto nel 2020 le produzioni degli album sono al nome del gruppo ma in realtà le aveva fatte lui solo che al tempo essendo minorenne non potevano attribuirgli le produzioni non poteva essere accreditato morì invece tutto da un'auto a 21 anni il secondo album dei KMD era in lavorazione ma venne fermato a uscire solo in seguito anche se non è stato direttamente ucciso l'ho messo comunque perché l'hanno investito